Vaccini a rilento ma non per assenza di dosi ma per mancanza di persone disposte a vaccinarsi. Open day ai centri vaccinali dell'asile di Salerno in modalità libera oggi per raggiungere più facilmente la popolazione non ancora vaccinata ma al centro polifunzionale di Matierno dove per l'intera mattinata erano a disposizione 250 dosi sono stati pochissimi coloro che hanno risposto all'invito. Davvero minima la presenza di persone che ha raggiunto il centro di Viale della Repubblica dove dalle 9 alle 14 era consentito l'accesso libero senza prenotazione. Una mattinata molto a rilento in un sabato d'agosto dove ci si attendeva invece una buona risposta. Tra i pochi giunti questa mattina sono stati soprattutto i giovani della fascia di ETRAT tra i 12 e 18 anni accompagnati anche dai genitori. La riapertura delle scuole si avvicina così come l'inverno con due dettagli da non trascurare. Il virus può correre più di quanto non lo stia facendo ora e la necessità di avere il Green Pass per accedere in diversi luoghi come ristorazione al chiuso, palestre, cinema, teatri e musei può spingere maggiormente all'immunizzazione. È un po' per paura ma poi soprattutto perché ci dovrà essere rientro a scuola quindi dovrà viaggiare con il pullman e la paura è tanta e quindi abbiamo deciso anche se a malincuore fare questo vaccino. A malincuore perché? Per paura, sì, sempre per paura, per comunque una ragazza quindi non sapendo poi cosa come si evolverà nel futuro quindi il timore c'è sempre anche per me personalmente però siamo stati decisi a farlo perché dovrà andare incontro alla scuola e quindi è meglio che si è vaccinata. Anche altri coetanei di sua figlia stanno facendo il vaccino, l'hanno fatto? Sì, sì, quasi tutti, quasi tutti quelli che conosciamo hanno fatto il vaccino e quindi anche questo ci ha portato a farlo. Oggi si sente più sicura? Forse con la prima sì ma speriamo con la seconda che vada tutto bene e quindi la paura c'è sempre. Ho indeciso se farlo o non farlo, poi in quest'ultimo periodo ho pensato che comunque ci sono stati molti morti in giro per il mondo e quindi la cosa migliore era appunto immunizzarsi così chiamando anche altri miei amici che ancora sono indecisi a farlo. E la necessità di avere il Green Pass magari adesso andiamo incontro all'inverno? Sì sicuramente anche il Green Pass è inciso perché comunque ci sono molte restrizioni, non si possono entrare nei bar, nei ristoranti quindi oltre al Green Pass sicuramente anche la salute prima di tutto perché chi soffre patologie o qualche altra cosa è chiamato appunto a vaccinarsi. Tu hai lanciato un invito ai suoi coetanei e dici loro ancora non hanno fatto il vaccino ma perché secondo te fino ad oggi non hanno fatto il vaccino? La maggior parte dei miei amici coetanei l'hanno fatto però ci sono ancora qualche, ci sono stati ancora qualche indeciso perché appunto non tutti erano, credevano molto in questo virus, credevano che sono un po' fomentato dai media e da tutti però io con il tempo ho capito che comunque ci sono stati molti morti e che anche i paesi del terzo mondo ancora non hanno fatto la prima dose quindi meglio che noi occidentali ci vacciniamo così che anche i paesi del terzo mondo possono cominciare a vaccinarsi.